Ben trovati a TG Med Sport XL, una puntata speciale dedicata al trofeo Tonino Cerro perché sarà una bella manifestazione dedicata ai giovani, nel ricordo di Tonino Cerro grande da giocatore, grande allenatore, grande soprattutto come uomo ed è questo il ricordo che ci continuiamo a portare non soltanto quando parliamo di calcio ma anche nella vita Allora insieme a Salvatore Geraci, inviato speciale del Corriere dello Sport, ciao Salvatore Grazie, buon pomeriggio, io sono felicissimo di essere qui nella duplice veste di giornalista ma soprattutto di amico, fraterno di Tonino che ha segnato poi delle tappe importantissime nella mia vita prima come giocatore perché ero al Corriere dello Sport e avevamo dei contatti strettissimi e poi perché è stato uno dei protagonisti del processo in diretta ed è stata un'esperienza indimenticabile sotto tutti i punti di vista, io potrei raccontare emozioni che nessuno conosce che nemmeno io poi alcune volte conoscevo, mi hanno raccontato alcune volte delle cose dopo che sono state veramente toccanti, incredibili veramente un personaggio al di sopra di ogni cosa Ne parliamo con Giuseppe Cerro, figlio di Tonino Ciao Giuseppe, grazie per aver accettato il nostro invito Cominciamo a parlare subito di Tonino papà, di Tonino uomo di calcio e soprattutto di questo torneo vedendo anche le locandine qualche immagine No, no vai, un ricordo di papà e soprattutto che torneo sarà, chi è dedicato Purtroppo è stato molto pesante per me poter organizzare questo trofeo, questo memorial perché sai, quando mi chiedono tutti se lo organizziamo, io dicevo sì perché è una bella cosa però mi veniva molto pesante, poi piano piano passando il tempo e rendendomi conto che veramente c'era un amore condizionato nei confronti di mio padre, è venuta grande voglia anche a me sono stato trascinato in questo progetto e l'abbiamo fatto per una categoria precisa che è giovanissimi 2000-2001 e comunque stia per partire oggi abbiamo questa presentazione qua e domani saremo in via Crispi 120 per la conferenza stampa il giorno 18 alle ore 16 a Mondello la prima partita del torneo Quante adesioni avete già avuto? Quante ve ne continuano ad arrivare? Allora intanto siamo 15 squadre e purtroppo non possiamo prenderne di più perché facciamo tutti un unico campo a Mondello e all'Omonaco quindi non abbiamo più potuto accettare altre adesioni però ci daremo soprattutto a ringraziare anche coloro che non stanno partecipando perché in molti mi hanno chiamato per un motivo di lontananza o per un motivo che magari non hanno i numeri in quella categoria e volevano partecipare non sono riusciti a essere con noi e quindi volevo ringraziare pure loro Stiamo vedendo anche un paio di immagini qui con Tonino Posso portarti? Certo, certo, io do soltanto il là per dire che adesso insomma vedremo delle immagini di Tonino anche da giocatore con delle caricature particolari, le vignette e grazie ovviamente a Giuseppe per avercele fatte avere Vai Salvatore No, mi fa piacere ricordare qualcosa di Tonino, tieni presente che la sua grandezza in assoluto se tu mi dici perché era grande Tonino, perché era un uomo semplice di una semplicità incredibile anche nelle cose più importanti della vita tu pensa che lui veniva sempre, interrompimi pure se vuoi con me No, qui a Trapani, Giuseppe, qui a Trapani Questo è il mio cugino Rosario Sì, dico ma qui a Trapani Sì, infatti insomma bella esperienza ho vissuto mio padre spero un giorno di poterle vivere anche non più da calciatore, perché non ho più l'età ma magari da allenatore, calcare quei campi che ha calcato anche lui Vai, vai Salvatore Allora ti dicevo, lui qui ci trattava non come... lui non era un collaboratore della trasmissione, non era un ospite della trasmissione, era uno di noi e allora le sue preoccupazioni quali erano? Che i tecnici non mangiassero, che noi eravamo digiuni e cose del genere per cui si era creato un'abitudine, lui portava sempre da mangiare arrivava e noi dicevamo, mi raccomando Tonino, spinge sempre la porta col piede in modo che ci fai vedere che hai le mani piene e lui sempre ci faceva delle cose incredibili, lui e sua moglie veramente squisiti poi Tonino è stato male e la sua preoccupazione era quando veniva che diceva a sua moglie ma io non devo portare niente ai ragazzi, i ragazzi mi aspettano per mangiare e cose del genere Giuseppe gli ultimi giorni il salame turco sì il salame turco ma gli ultimi giorni lui era sofferente in una maniera incredibile io ho saputo dalla moglie che si faceva le iniezioni e veniva qui perché? perché diceva non posso lasciare quei ragazzi senza la mia collaborazione ma è incredibile, se tu guarda lo esamini un momentino nella sua semplicità è una storia veramente bellissima commovente al massimo e alla fine del primo tempo, certe volte si alzava e chiedeva scusa perché si alzava un momentino e dice così mi voglio sgranchire un poco non è che si volesse sgranchire, era pieno di problemi e di dolori Giuseppe, Salvatore, questa è una foto straordinaria, la commentate voi? beh questa è la foto del Palermo che è ritornato al calcio del Palermo che ha fatto sognare un'intera città del Palermo che è entrato in campo in una partita di allenamento con 40.000 spettatori del Palermo che ha battuto l'Ajax del Palermo che ha fatto 4 gol con Deste che è ritornato a vivere per la gioia di tutti che squadra ha battuto l'Ajax Enzo Traina per favore mi fai vedere le immagini con questo assist di Salvatore Geraci rivediamo quella partita, dice il 9 maggio 1988 e anche qui ci parliamo sopra, guardate un po' come era la favorita intanto io penso che già il primo è un 15 anni che ormai mette in queste categorie e non si è mai visto uno stadio forse, forse il primo anno di A così pieno come era in C2, in quella media che aveva contro l'Ajax ancora lo stadio lo stava a essere costruito, il secondo anello Tripletta di Deste con il di Pochette, una partita incredibile Salvatore, era davvero un'altra atmosfera, forse non è più ripetibile io ti devo dire la verità che quella che mi ha creato più emozione è stata la partita che non ho visto, sono le immagini che ho rivisto poi perché ero inviato fuori la partita con l'Atletico Minero, quando sono entrati in campo quando questa squadra di morti resuscitati è entrata in campo perché ritornava il Palermo e improvvisamente quello stadio era impazzito, impazzito di felicità al grido di ogni, ovviamente c'era la mitica Caterina che urlava lì i nomi di tutti e quelle immagini ce le ho conservate a casa perché secondo me rappresentano uno dei momenti storici più belli del Palermo questa è una partita particolare tra l'altro perché in campo c'era Bosman esatto, famoso per la legge, poi diventò famoso per Rosmicolo poi diventò famoso per altre cose e lì con Tonino noi riuscimmo ad avere un'amicizia incredibile lui faceva da tramite, non era soltanto un allenatore lui era bravo anche a tenere i rapporti con i calciatori e a tenere i rapporti anche con Giuseppe, con Pino Caramanno che era una persona particolare ma lui riusciva a smussare qualunque angolo e a fine campionato mi aiutò a organizzare una festa di ringraziamento che io voglio fare a nome della televisione con tutti i calciatori del Palermo una cosa mitica, storica e siamo riusciti ad avere questa serata incredibile con tutti i titolari, con i giornalisti della televisione e ovviamente era Tonino l'anima di tutto e pochi giorni prima che Tonino morisse mi telefonò e mi disse lo so che ti rompo le scate lo so che ti debbo far fare dei chilometri ma mi devi fare una cortesia devi venire a Piana degli Albanesi con me a trovare il maestro il maestro ci tiene e quindi dobbiamo andare a mangiare lì un po' di pane con l'olio e siamo andati lì a trovare Pino è stato veramente, guarda era di una generosità, di un altruismo di una sensibilità che ritengo al mondo non ce ne siano io gli dicevo che era un angelo lui scherzava e rideva ma secondo me forse gli mancavano le ali ma lo era sul serio Il ricordo di papà capisco che è anche non semplice da esternare ma cosa c'è di Tonino in Giuseppe Cerro? Lui ha cercato sempre di insegnarmi quelli che erano i valori dello sport che non erano quelli di per forza essere diventare il numero uno lui diceva sempre in ogni inizio campionato a tutte le squadre i giovanissimi, gli allievi, gli esordienti che non per forza nella vita bisognava essere i migliori calciatori al mondo bisognava essere anche si può essere anche i migliori ingegneri al mondo i migliori carpenteri al mondo l'importante è fare tutto al massimo e dedicarsi con una linea e cuore a quello che si fa e questo è l'insegnamento che devo portare avanti io e che vorrò portare avanti in un futuro qualora anche io volessi intraprendere questo mestiere ossia non semplicemente l'allenatore ma anche un neopresidente un direttore di una scuola di calcio in futuro Ricordiamo ancora le date di questo trofeo Tonino Cerro e poi ti faccio fare quello che ti piace di più l'analisi dei match così parliamo del Palermo vedendo anche le immagini ricordiamo date e luogo di questo trofeo Tonino Cerro e soprattutto la particolarità perché vedete qui il trofeo funziona un po' come la Coppa Rimè chi la vince tre volte se la porta basta non ce ne sarà poi più un'altra no? no sì infatti praticamente intanto cominciamo il giorno 18 alle ore 16 con la partita inaugurale che è come si farà tutto al Franco Lomonaco a Mondello la squadra della padrona di casa è la Parmonval giocherà Parmonval contro il Carini A alle 16 la partita inaugurale questo trofeo è stato fatto perché intanto verrà dato ogni anno la Coppa del primo posto in più verrà consegnato questa alla squadra vincitrice e avrà l'obbligo non solo di tenerlo in segreteria in bella mostra ma riportarlo l'anno dopo perché poi nella storia quando ne vincerai tre sarà il tuo diritto